Quindi paradossalmente o se vogliamo fortunatamente questa sospensiva imposta dal TAR potrà servire a favorire quel confronto tra le parti invocato peraltro dalle stesse segreterie nazionali di Cigelle, Cisle, Guille, sia del settore dei trasporti che dell'edilizia, attraverso quella richiesta che è stata inoltrata proprio qualche giorno fa ai ministri competenti Giovannini per il MIMS e Orlando per il lavoro e dalla quale peraltro è scaturita la convocazione che è stata fissata per domodomani, per il prossimo 15 luglio. Nella vicenda strada dei parchi audizione in videoconferenza con la commissione lavori pubblici, infrastrutture e mobilità del senato e sindacati. Tra gli interventi quello di Franco Rolandi della Filt Cigelle Abruzzo e Molise il quale anche a nome dei suoi colleghi precisa che il sindacato deve occuparsi soprattutto dei lavoratori non solo del futuro occupazionale ma anche della messa in sicurezza per gli stessi lavoratori. E' del tutto evidente che un'organizzazione sindacale non ha la funzione di entrare nel merito della legittimità di un provvedimento di revoca di una concessione disposta dal governo almeno ufficialmente, leggo testualmente dal decreto, per gravi inadempienze da parte dell'impresa. È un compito che notoriamente è demandato alla politica e alla magistratura. Tuttavia noi non possiamo fare a meno di constatare, come diceva la segretaria nazionale, che la notizia della revoca della concessione decisa dal Consiglio dei Ministri attraverso il decreto legge 85 del 7 luglio e con il quale è stata data efficacia immediata la risoluzione della concessione che venne esiglata il 18 ottobre del 2009 tra ANAS e Strada dei Parchi. Dicevo, questo provvedimento ci ha colto un po' tutti di sorpresa, soprattutto per le modalità e per la tempistica con le quali si è materializzato questo provvedimento di revoca. Va giù duro poi Rolandi, noi non siamo stati informati di questa decisione altamente impattante sui lavoratori e l'organizzazione del lavoro se non a cose fatte. Di fatto nonostante si parli di passaggi e destinazione finale alla società in house, non si garantirà, almeno come sta scritto adesso il decreto, la continuità del rapporto di lavoro in termini di diritti, i ricompresi quelli acquisiti in anni di negoziazione specifica, se si esclude il solo riferimento all'anzianità maturale. Quindi in definitiva il provvedimento non è stato preceduto da quel necessario confronto preventivo con le parti sociali che è indispensabile proprio a dirimere queste incongruenze e a garantire i livelli occupazionali complessivi, nonché quelle tutele economiche normative senza soluzioni di continuità. Tra gli interventi Giorgia Del Rico per la filta CGL Nazionale, Franco Rolandi appunto per la filta CGL Abruzzo e Molise, Ezio Giorgi per la filea CGL Nazionale, Andrea Cuccello per la Cisela Confederale, Marco Versali per la UIL Trasporti.